Ciao a tutti, benvenuti a C per TV, questa è la prima puntata, io sono Iuri, owner di CrossFit Bergamo e da coach. Oggi lavoreremo sulla prima classe di C per TV, quindi lavoreremo in progressione, vedremo come si divide una classe e come si spiegano e si sviluppano in workout.